come è andata principessa la preghiera sulla montagna sacra il potere del sigillo non si è risvegliato perdonatemi principessa hai fatto del tuo meglio se non ha funzionato pazienza e poi meditare su una montagna non è tutto magari il potere del sigillo può risvegliarsi in un altro modo grazie urbosa principessa ecco non so spiegarmi tanto bene sai stavo pensando quando uso i miei poteri curativi mi concentro sempre su un'immagine e così ecco ma è... non c'è dubbio ci siamo è proprio lui si è risvegliato tranquilla principessa ci penseremo noi a fermarlo in qualche modo forza compagni tutti a bordo dei colossi sacri pronti ad affrontare la calamità mentre Link combatte contro Ganon sferriamo un attacco simultaneo braccia corri al castello di Hyrule noi ti copriamo le spalle riduci Ganon a un bucchio di sassolini presto mia principessa tu devi metterti al sicuro no voglio venire con voi anche se non sono di grande aiuto almeno lasciatemi restare al vostro fianco almeno lasciatemi restare al vostro fianco non 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 non